ciao a tutti cari amici e benvenuti da adribiju questo oggi video diverso dal solito e vi voglio mostrare gli acquisti che ho fatto da una gioielleria di cui vi do dico a breve il diciamo come come si chiama il sito internet dal quale ho comprato e non sono altro che degli oggettini della pandora in concomitanza con il mio compleanno che non è adesso ma è stato il 4 di marzo però come al solito io sono sempre faccio le cose con comodo e non è che non l'ho mai aperto l'ho già guardato dentro l'ho ricomposto per mostrarlo a voi e niente quindi siccome sono stati molto gentili con me hanno fatto una spedizione velocissima e siccome mi sono registrata sul loro sito come benvenuto ho avuto uno sconto io vi consiglio questo sito perché a parte che sino al 18 in particolare il 18 aprile avrete uno sconto del 20 per cento acquistando sui prodotti della pandora ma è una gioielleria e ha diverse marche quindi ve lo consiglio perché ha tantissime cose belle ed inoltre in particolare della pandora ha degli oggetti che sono fuori produzione e ce li ha quindi che se qualcuno è interessato ad ottenere degli oggetti che magari non trova più ecco può andare tranquillamente su questo sito che adesso vi mostro vedete allora io comunque ho fatto questo acquisto qui ora ne andremo a spulciare allora www.naviglioefiumegioielleria.it allora sono è un negozio fisico ed inoltre anche il sito internet sono di brindisi io sono di taranto e quindi diciamo sono pugliesi e per questo è comunque non è una collaborazione io ho voluto pubblicizzarli perché mi sono trovata molto bene consiglio anche voi di andare a dare un'occhiata sul sito vedete questo acquisto fatto il 3 di marzo e con degli sconti degli sconti ho pagato così due anelli un charm ed un distanziatore quindi lo sconti e poi c'era il documento il documento insomma accompagnatorio con tutto quanto precisamente scritto e allora poi c'erano all'interno anche ben confezionato come potete vedere sacchettino e queste due due bustine qui e poi questo tutto era racchiuso in questa in quest'ulteriore busta trasparente poi il certificato di autenticità tutto ben preciso quindi io ve lo consiglio ripeto fino al 18 c'è il 20 per cento di sconto molto 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 garbato navide film e il mostro andiamo ad aprire prima di tutto questo questo qui contiene un petit per chi conosce praticamente vedete è un cuoricino molto semplice che ho pagato solo 5 euro scontatissimo perché comunque dovete sapere che video che devo fare naturalmente ho acquistato quando ci furono gli sconti sul sito sto parlando sto cercando anche di mettere a fuoco ma non è vuol sapere vada comunque molto molto semplice e forse perché non so se vorrei mettere un se ci siamo allora dicevo ho comprato anche una collana con la chiave medaglione per poterci inserire il petit nei famosissimi sconti che ci sono stati fino a febbraio lì mi sono proprio svenata c'è qualcosa come come bruciarsi lo stipendio in poco tempo veramente farò un altro video di quello perché veramente lì è proprio soprattutto ancora chiuso nelle scatole come sempre come di chi mi conosce lo sa benissimo è come come tengo le cose io comunque ecco facciamo l'apertura di questo bel pacchettino confezionato alla grande e voilà abbiamo c'erano proprio era proprio così quando ho ricevuto e all'interno vorrei non fare subito forse vorrei sculciare ecco facciamo così proprio al contrario dopo quando li faccio vedere tutti e tre magari le 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 fantasie di adriana chiamiamoli così allora guardiamo un attimo questo distanziatore che mi è piaciuto tanto in quanto a parte che mi sa che è un fuori produzione questo qui non si trova e mi è piaciuto tanto perché come distanziatore ecco forse questo questa maniera riusciamo a vedere meglio come distanziatore è bello largo che sembra un charm cioè sembra proprio uno uno di quelli lì infatti il charm di questo è più è più largo cioè mi sembra che c'è un altro binario di distrassi insieme con con i cuori e comunque è bellissimo bellissimo davvero mi è piaciuto tanto elegante sobrio molto bello ed è il primo lo metto lì dopo ho due anelli due anelli di cui questo che è veramente se appena l'ho visto mi sono lanciata proprio a tuffo qui veramente veramente bello ecco caratterizzato da quegli strass è un cuore semplicissimo io ho preso la 56 di taglia che sarebbe questa questa situazione qua le mani sempre non ci fate caso le laviamo praticamente h24 e quindi avete un rinsecchimento e niente come modella non è che sono molto molto speciale in questo momento dai però dai carino carinissimo con funzionatura adesso la vado a beccare da qualche parte eccola la vedete ecco sterling 925 alle 56 la taglia ed è favoloso per quanto mi riguarda mi è piaciuto tanto è sempre molto molto bellino quest'altro anellino quest'altro anellino qua guardate che bello questo qui è il quadrifoglio portafortuna ciondolone vedete che bello veramente simpatico così mi è piaciuto tantissimo anche questo è questo qua anche lui il cuoricino e anche qua ci stava forse non o no ma no su questo non c'è non c'è non c'è non c'è ma pensavoci fuori evidentemente veramente qui è più più stretto il binario vedete qui si presta meglio ovviamente oppure un'altra un'altra serie giustamente appena appena più largo comunque anche qui abbiamo il suo cuore e dopo di che sterling 56 la taglia che mi va qui poi chiaramente beh io ho delle dita molto meglio quindi allargo qui volendo posso anche inserire volendo una taglia di meno mi ci sta pure però ecco preferisco la 56 dai e questo era il suo bel contenitore che forse ho sdradicato alla grande brava adriana bravissima si 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 sei fantastica bene allora dai l'ho aperto al contrario comunque ci stava insomma confezionata alla grande va bene noi era fatto così con il charme al centro sono molto più bravi di me io ve li consiglio ve li consiglio e vedete tutto questo così ritornando alla ai prezzi vedete 24 e 50 24 e 50 22 50 gli anelli poi c'è il distanziatore 22 e 50 il charme petit 5 euro mi sa che il quadrifoglio venisse 24 e 50 il cuore 22 e 50 insomma comunque io ve li consiglio sono varie volte che ve lo dico andate sul loro sito e niente per oggi è tutto